Uova, farina, zucchero, cappello da chef e tutto quello che c'è da sapere per diventare un buon aiuto pasticcere o un novello panettiere. Sono ripartiti all'Hotel Joseph di Marina i corsi di cucina per i ragazzi down, promossi dai balneari, albergatori e commercianti di Lido di Camaiore insieme all'associazione IPD. Hotel a 6 stelle Versilia è il progetto, giunto alla terza edizione, che consente a chi ha affetto dalla sindrome di imparare un mestiere e di inserirsi nel mondo del lavoro, con i preziosi consigli della chef pasticcera Anna Pratali. Uno degli obiettivi è quello di inserire i ragazzi in una comunità socializzata e comunque al di fuori delle proprie famiglie e del proprio gruppo di amici. L'altro importantissimo obiettivo è quello di formarli per un mestiere, per poi inserire le nostre strutture ricettive, alberghiere e stabilimenti balneari. Siamo al terzo anno, l'anno scorso c'è stato un inserimento di un ragazzo in una struttura alberghiera, anche quest'anno ci diamo l'obiettivo di poter inserire alcuni di questi ragazzi nel ciclo lavorativo. Come già avvenuto con il corso di febbraio, per uno dei partecipanti ci sarà un contratto di lavoro per uno stage in un hotel a Lido. Un segnale forte di inclusione sociale, ma anche di sensibilizzazione verso le famiglie affinché non tengano i figli down e lontani dal mondo del lavoro. Sembra che questi ragazzi siano particolarmente inclini alla cucina e cucinare, forse perché è una cosa conviviale da fare insieme, è una cosa pratica e che li obbliga a mettere in atto certe manualità che via via acquisiscono. Io vedo che i nostri sono entusiasti, non vedono l'ora quando finisce, non vedono l'ora che ricominci.